Musica Edizione delle 18.30, buon mercoledì dagli studi di TG2000. Andrò a Lesbo per esprimere la vicinanza al popolo greco. L'emergenza e immigrazione rompe nell'udienza generale di oggi in piazza San Pietro con le parole di Papa Francesco a tre giorni dal viaggio lampo nell'isola diventata un simbolo, la Lampedusa della Grecia. Questo è quello che ha detto Francesco. Subito possiamo ascoltare allora le parole del Santo Padre. Sabato prossimo mi reccherò nell'isola di Lesbo dove nei mesi scorsi sono transitati moltissimi profughi. Andrò insieme con i miei fratelli il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia Ieronimos per esprimere vicinanza e solidarietà sia ai profughi, sia ai cittadini di Lesbo e a tutto il popolo greco tanto generoso nell'accoglienza. Chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera invocando la luce e la forza dello Spirito Santo e la materna intercessione della Vergine Maria. Una visita breve questo sabato, 16 aprile, dalla mattina al pomeriggio. Con il Papa ci saranno il Patriarca di Costantinopoli e l'Arcivescovo di Atene. Un'isola, quella di Lesbo, con un ruolo molto importante. Sentiamo Pierluigi Vito. Sarà un viaggio breve ma di rara intensità. Francesco partirà la volta di Lesbo alle 7 di sabato mattina per rientrare a Roma intorno alle 17 dello stesso giorno. Con il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'Arcivescovo Ortodosso di Atene Ieronimos si recheranno al centro di permanenza profughi dove passeranno gran parte del tempo, pranzo compreso. Previsto inoltre un momento di salute istituzionali e di preghiera ecumenica al porto di Mitilene, la città principale dell'isola con i suoi 30.000 abitanti, in pratica un terzo del totale. È un luogo cruciale nella storia greca Lesbo per la cultura. Qui nacque Rosaffo e Alceo tra i maggiori poeti della letteratura classica e vi insegnò il filosofo Aristotele, ma anche per alcune pagine dolorose. Come nel 1923, quando in seguito ai trattati di pace dopo la prima guerra mondiale e la dissoluzione dell'impero ottomano, l'isola, per la sua posizione strategica, assistette all'esodo contemporaneo di migliaia di musulmani verso la neonata Turchia e il ritorno disperato di migliaia di greci espulsi dall'Anatolia. E poi, tra il 1967 e il 1974, gli anni della dittatura militare in Grecia, a Lesbo vennero creati diversi campi di prigionia per oppositori al regime dei colonnelli, in cui morirono centinaia di persone. Mentre oggi, l'approdo all'isola rappresenta la speranza di un futuro migliore per migliaia di uomini, donne e bambini in fuga da guerre e persecuzioni. Intanto, sul confine fra Grecia e Macedonia, ai domeni continuano gli scontri fra polizia e immigrati. Le forze dell'ordine hanno lanciato gas lacrimogeni e granate stordenti contro un centinaio di profughi che protestavano al di là della barriera di filospinato. Stiamo vedendo le immagini. Già domenica si erano verificati episodi come quelli che stiamo vedendo. Ad alcune centinaia di metri era in corso, tra l'altro, una visita ufficiale al centro di accoglienza per migranti del presidente macedone Ivanov e dei suoi omologhi croato e sloveno. E chissà se a Lesbo il Papa incontrerà la signora Emilia, la cui foto la ricorderete. Probabilmente, insieme ad altre due donne anziane, ha fatto il giro del mondo. Emilia è stata immortalata mentre allattava con un biberone un bimbo siriano. Vito Dettore, proprio a Lesbo, ha incontrato nonna Emilia, anche lei un'immigrata e oggi candidata al Nobel per la pace. Questa foto ha fatto il giro del mondo. È diventata il simbolo della solidarietà e dell'amore del popolo greco verso i profughi. Tre anziane sedute su una panchina. Una di loro, Emilia, 83 anni, la più giovane, allatta un bimbo siriano appena arrivato sull'isola di Lesbo a bordo di un gommone. Un gesto che le è valso la candidatura al premio Nobel. Siamo andate a trovare la signora Emilia nella sua casa a Scala Sicaminias, piccolo borgo a nord di Lesbo. Andavamo tutti i giorni, io e Marizza e Stratia, ad aiutare i profughi. Gli portavamo vestiti, caramelle per i bambini, quello che avevamo in casa lo portavamo in spiaggia. Dopo qualche minuto arriva anche Marizza, 85 anni, amiche inseparabili. Nella foto è accanto a Emilia. Dov'è questa signora? Perché siete in tre, voi siete in due. L'altra? È a casa sua, è stata poco bene nei giorni scorsi. Possiamo andarla a trovare se vuoi. Possiamo andarci? Emilia, Marizza, Stratia. Mi racconta un po' la storia di questa foto. Come tutti i pomeriggi, eravamo in spiaggia ad aiutare i profughi. Ad un certo punto abbiamo visto che c'era una mamma con un neonato, che aveva i vestiti bagnati e allora le abbiamo detto fatti dare i vestiti asciutti, vatti a cambiare, riteniamo noi il bimbo. Ma nel frattempo questo bambino ha iniziato a piangere, aveva fame. E allora ho detto a Emilia vai a prendere un biberon, che glielo diamo. All'inizio il bimbo non lo voleva perché il latte era bollente. E così l'ho raffreddato io nell'acqua del mare. Ho dato Emilia il biberon e il bimbo ha iniziato a bere. Quando è tornata la madre, ha visto la scenetta e si è messa a ridere. Adesso ecco, tanti bimbi, tanti profughi sono in Turchia e non riescono ad arrivare qui in Grecia. Voi come mi sentite? Cosa provate? E' come voi che stiamo, figlio mio, male. Noi siamo figlie di profughi. Nel 22 siamo scappati dalla Turchia e siamo arrivati qui. Sappiamo cosa vuol dire. Io penso che l'Europa dovrebbe fare un tavolo per trovare una soluzione. Non possiamo mica lasciare questa povera gente in mezzo al fango, tenerli chiusi col filo spinato o rimandarli sotto alle bombe. Sabato arriva il Papa qui all'Esbo. E' bellissimo. Un cattolico che viene a difendere tanti musulmani. Fa bene, fa benissimo. Siamo tutti sotto lo stesso cielo, un Dio solo. Cambia solo la lingua. Speriamo che possa mettere fine alle sofferenze dei profughi che si trovano ai domeni, picchiati dalla polizia della Macedonia. Bambini, donne incinte, anziani come noi. E' terribile. Se riaprono le frontiere, arrivano i profughi, voi siete pronti a ospitare, a dare benvenuto a tutti? Certo, certo. Noi apriamo casa. E quel poco che abbiamo lo condividiamo. Se non abbiamo niente, gli regaleremo abbracci. Noi vogliamo vedere ancora i loro sorrisi che ci rendevano orgogliose e felici. Ve l'abbiamo detto, Papa Francesco ha chiesto di pregare per lui per la visita all'Esbo durante l'udienza generale di stamattina, un'udienza in cui il pontefice ha ricordato che l'amore di Dio non esclude mai nessun peccatore. Allora andiamo in Vaticano da Stefania Squarcia. Eccoci Stefania, ciao. Buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. Anche oggi folla di fedeli e pellegrini qui in piazza San Pietro per l'udienza generale numero 16 dall'inizio dell'anno. Oltre 20.000 le presenze registrate e sempre con provenienze molto varie. Barbara, tu ricordavi alcune delle parole significative pronunciate dal Papa stamattina all'udienza del mercoledì. Non c'è santo senza passato, ha detto Francesco e né peccatore senza futuro. La Chiesa non è una comunità di perfetti ma di persone in cammino bisognose di perdono. Siamo sempre nell'ambito del ciclo di catechesi del pontefice su misericordia e nuovo testamento e le riflessioni di Papa Francesco prendono spunto dal brano evangelico della chiamata di Matteo. Una pagina del Vangelo davvero molto cara a Jorge Mario Bergoglio che proprio nel giorno della festa di San Matteo il 21 settembre del 1953 ha sentito la chiamata al sacerdozio. Allora guardiamoci insieme il servizio di Paolo Fucili al termine, la linea può tornare allo studio. Non c'è infermità, vale a dire peccato, che Dio da buon medico non possa curare. Perciò Gesù accettava inviti a cena da chiunque, anche peccatori come il pubblicano e futuro apostolo San Matteo, in viso a tutti perché riscuoteva per mestiere le tasse dei romani. E quando appunto Gesù con i suoi discepoli siede a tavola con lui, ecco che i farisei si scandalizzano. Ma tu non puoi andare a casa di questa gente, dicevano loro. Udienza generale, oggi a San Pietro Francesco commenta per i 22.000 presenti il Vangelo della chiamata di Matteo, pagina a lui assai cara, cui è ispirato e noto anche il motto del pontificato Bergoglio miserando atque eligendo, che tradotto un po' liberamente parla dello sguardo di amore con cui Gesù si sceglie Matteo e così facendo, annota il Papa oggi. Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla condizione sociale, alle convenzioni esteriore. Chi però si crede giusto o migliore degli altri non può capire. Bando perciò ammonisce Francesco a superbia e orgoglio, muro che ci impedisce di vedere il volto misericordioso di Dio. La sua parola spesso è dolorosa, sì, smascherando ipocrisie e svelando verità nascoste, però illumina e purifica tutto il contrario della religiosità di facciata che non riconosce ai peccatori la possibilità di ravvedersi e così mostra di non conoscere il cuore di Dio o per dirla con l'ultimo esempio... come se a te ti regalassero un pacchetto dentro e c'è un dono e tu invece di andare a cercare il dono guardi soltanto la carta. Veniamo alle pensioni con una notizia che interessa i dipendenti del settore privato vicino al riposo. Per loro da oggi è possibile chiedere il cosiddetto part-time agevolato. Di che si tratta? Ce lo spiega Giorgio Schiavoni. Al via il part-time agevolato in uscita per i lavoratori ai quali mancano meno di tre anni alla pensione. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha firmato stamane il decreto che dà attuazione alla norma introdotta nell'ultima legge di stabilità e che riguarda i lavoratori del settore privato assunti a tempo indeterminato e orario pieno che abbiano il requisito minimo per la pensione di vecchiaia cioè almeno 20 anni di contributi e che maturano il requisito anagrafico entro fine 2018. Da oggi si potrà fare un accordo con il datore di lavoro per passare dal regime a tempo pieno a un orario parziale dal 40 al 60% di quello normale prendendo però una retribuzione pari a circa i due terzi di quella ordinaria. Quindi l'orario si dimezza ma la pagano. E la pensione rimane la stessa perché lo Stato si farà carico dei mancati contributi previdenziali. La misura appare anche come una replica a chi chiede di abbassare l'età di pensionamento e non convince i sindacati. A loro dire bisognerebbe estenderla anche al settore pubblico pretendere dalle aziende l'obbligo di assumere un giovane in cambio di ogni anziano in part time e destinargli più risorse. Esperimenti simili, notano infine i sindacati, sono già falliti in passato. Secondo loro l'unica soluzione è andare in pensione prima di 66 anni e 7 mesi. La cronaca ci porta a fermo per raccontarvi di un grave atto intimidatorio contro Don Vinicio Albanese, il presidente della comunità di Capodarco da sempre sulla frontiera dell'accoglienza verso gli ultimi. Qualcuno ha fatto scoppiare una bomba contro la piccola chiesa di cui Don Vinicio è parroco. Il servizio di Federico Plotti. Un'esplosione violentissima. Il boato nella notte ha svegliato l'intero isolato intorno alla chiesa di San Marco alle Paludi, a fermo. Un barattolo pieno di polvere pirica, un ordigno rudimentale, dicono gli inquirenti, ma molto potente, tanto da intaccare le pareti a fianco del portone della chiesa. Il parroco è Don Vinicio Albanese, presidente della comunità di Capodarco e direttore della Caritas Diocesana di Fermo. Da sempre impegnato nell'accoglienza dei poveri, degli svantaggiati e adesso anche degli immigrati. E questa cosa forse a qualcuno non piace. L'idea che mi son fatto è che siamo dei preti che si occupano di Caritas in territori difficili e quindi l'ho interpretato come un avvertimento, quasi che qualcuno volesse dirci calmatevi, ritiratevi, una cosa di questo genere. E questo non è nemmeno il primo episodio contro strutture religiose della cittadina marchigiana. Nel febbraio scorso un ordigno era stato innescato davanti alla canonica del Duomo e stessa sorte aveva avuto anche il portone d'ingresso della casa del parroco del quartiere di Lido San Tommaso. Quelle due bombe, secondo gli inquirenti, erano state fabbricate artigianalmente dalla stessa mano. Adesso si cerca di capire se anche l'ultima, quella esplosa ieri appena fuori, la chiesa di San Marco alle Paludi, sia simile alle altre. Ormai però restano pochi dubbi. Le tre esplosioni, dicono gli inquirenti, con tutta probabilità sono collegate tra di loro. Stessa autore, stessi obiettivi, la chiesa e poi Don Vinicio Albanesi. Di questo ne è convinto anche lui, come ammette ai nostri microfoni. Questo mi fa capire che è gente che ci conosce, che sa quello che vuol fare, si è resa conto di questo portone resistente, quindi ha aumentato la dose, sapeva che io non abitavo qui, quindi una serie di elementi che ci fanno capire che siamo seguiti, che siamo attenzionati, come si dice. Gli sviluppi del caso Regeni con le parole del presidente Al-Sisi che scagionano i servizi segreti egiziani dall'omicidio del ricercatore italiano Regeni. Dice Al-Sisi, è stato ucciso da gente malvagia che vuole mettere in imbarazzo il paese. Antonio Soviero. Siamo stati noi egiziani a creare un problema con l'assassinio dell'italiano. Così Abdel Fatal Tzisi durante un incontro in Parlamento trasmesso dalla TV di Stato. Il presidente egiziano torna a parlare di Giulio Regeni, torturato e seviziato fino alla morte al Cairo, ma lo fa per scagionare i servizi segreti. Non sono stati loro ad ucciderlo, ma gente malvagia, afferma il Reis, senza però fornire ulteriori dettagli. Al-Sisi parla dopo che il governo italiano stanco della scarsa, scarsissima collaborazione del Cairo nelle indagini sulle cause della morte del ricercatore friulano ha richiamato a Roma l'ambasciatore Maurizio Massari. Il Reis ribadisce le condoglianze alla famiglia Regeni e accusa, e questo è forse il secondo reale motivo della sua uscita pubblica, Al-Sisi accusa i medi egiziani di aver generato il problema con l'Italia pubblicando menzogne, mentre sostiene il governo del Cairo a Egitto in totale trasparenza. Al-Sisi poi invita a Roma a mandare di nuovo i propri investigatori, sottolineando che il caso è in cima all'agenda dell'autorità giudiziaria. L'Egitto, conclude, ci tiene ai rapporti che definisce unici con l'Italia. Nove promesse del presidente egiziano che si aggiungono alle precedenti, ma finora gli inquirenti italiani ancora non hanno ottenuto i video e i tabulati telefonici fondamentali per individuare i reali assassini di Giulio Reggeni e la sensazione dopo le parole di Al-Sisi di oggi è che non li otterranno mai. Cambiamo argomento, oggi a Roma è stata presentata la prima sala cinematografica con finalità terapeutiche all'interno di un ospedale, il Policlinico Gemelli, con una proiezione speciale. Sentiamo. Il cinema, la migliore terapia. Aiutaci a portarlo negli ospedali. Fino a ieri questo era solo uno spot, anzi, un auspicio, quello di realizzare attraverso una raccolta fondi promossa dall'Onlus Medicinema Italia una sala cinematografica dentro un ospedale. Da oggi questa sala cinematografica esiste davvero. Siamo all'ottavo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Eccolo il cinema allestito grazie alle donazioni, 500.000 euro in totale. Tra i sostenitori, la Walt Disney Company Italia che assieme a Rai Cinema consentirà la proiezione di propri film in prima visione. Per l'inaugurazione è stato scelto il libro della giungla. Non si tratta solo di intrattenimento ma di una vera terapia, la Cinematerapia che prevede una selezione dei contenuti, un protocollo di cura pensato per malati adulti e per i più piccoli. Noi lavoriamo prima, noi inteso Medicinema e l'ospedale quindi con gli psicologi, i medici e tutto il personale che viene coinvolto in questo lavoro in quello che è la definizione dei contenuti filmici più adatti a secondo della tipologia dei pazienti coinvolti. Quindi non si lascia nulla al caso proprio perché un programma di terapia deve avere una valenza finale di utilità. 130 posti riservati ai pazienti, al loro familiare, al personale medico di assistenza e la possibilità di vedere un film è garantita anche a chi non è autosufficiente. Questo effetto pausa di sospensione a un paziente che viene al cinema significa veramente vivere una doppia realtà. Quella di paziente ma sospendere per qualche ora il tempo di arrivare in sala, di vedere un film, di parlarne con chi è a fianco all'unistanza, con i genitori, con gli amici, con i parenti e quindi avere alcune ore di sospensione di questo stato di malessere, di malattia. È arrivato il momento del nostro TG Post, parliamo oggi del Via Libera alla riforma costituzionale, per questo la giornata di ieri è passata alla storia, la nostra Costituzione è stata cambiata in particolare nei meccanismi della politica. Con il nostro Augusto Cantelmi entriamo nei dettagli della nuova carta e anche nella polemica sui rischi adumbrati dagli oppositori al nuovo testo, testo che in autunno diventerà vigente se verrà approvato dagli italiani con un referendum confermativo. Subito allora, un'anticipazione dopo il TG Post torna attenti al lupo, questa sera si parla di fisco, tutto sul 7.30 precompilato. Buona visione e buona serata.